ariete le ragioni del cuore sono vincenti in questi giorni preferite cercare benessere e armonia piuttosto che ostilità infatti l'amore vi chiama convenere armonica inoltre piccole cose si muovono positivamente in ambito lavorativo tuttavia anche voi così battaglieri adesso avvertite una certa stanchezza toro oggi la luna in aspetto di opposizione suscita un po di nervosismo un malcontento che si esprime soprattutto in amore con alcuni diverbi o lontananze in ogni caso meglio riflettere prima di agire potreste dare sfogo a collere inopportune occorre prudenza gemelli giornata dai toni morbidi e intriganti in amore la tendenza a vivere le storie amorose e con leggerezza può creare a volte qualche perplessità ma appaga la vostra natura mobile e curiosa è un periodo propizio ai sentimenti ma un po meno per le questioni inerenti all'andamento lavorativo cancro sono parecchi i pianeti in aspetto di opposizione e potreste procedere con difficoltà nel quotidiano ed anche nei programmi a lungo termine un po stanchi e demotivati è necessario mantenere le posizioni ed essere perseveranti avrete così l'occasione di decidere veramente cosa è giusto per voi leone la giornata fa scivolare in basso il tono dell'umore agitazione e irritabilità sono le caratteristiche prevalenti venere dissonante non agevola le faccende di cuore dovrete affrontare consapevolmente alcuni disagi e prendere atto della realtà buona o meno buona vergine oggi siete emotivamente frizzanti causa luna e marte positivi ed arriva una maggiore forza col sole e giove in angolazione armonica è un momento di elaborazione ma anche di crescita di costruzione dovete dare forma a occasioni fortunate che possono portarvi vantaggi bilancia non potete schivare alcuni fardelli in questo periodo siete messi di fronte a situazioni a volte impervie alle quali dovete dare una risposta concreta attualmente venere in angolazione armonica può destare la vostra anima conciliante ma soprattutto vi riporta al sentimento ad aprire il cuore scorpione la luna oggi è di passaggio nel segno e anima la giornata con percezioni eccitanti vi piega a ricercare le sensazioni forti e inusuali la sfera amorosa risente di qualche giorno di incomprensione cercate di non creare disorientamenti dannosi non vi manca comunque energia e motivazione in ciò che intraprendete sagittario buon umore e leggerezza accompagnano questa giornata che vi accoglie con molta positività lasciando tracce amorose da raccogliere una bella sintonia con voi stessi e con chi vi circonda è infatti un periodo scorrevole anche se l'andamento è piuttosto intenso capricorno il sole sta facendo l'ingresso nel vostro segno e si accoda a giove saturno e plutone già in transito baciati dalle migliori forze astrali che tendono a farvi avanzare nella vita in maniera ambiziosa e dinamica dovrete concretizzare un progetto una proposta di lavoro o personale importante acquario venere nel segno è fuoriera di una fase positiva insieme a mercurio in posizione armonica emerge l'esigenza di ascoltare le faccende di cuore di ritmare le giornate con incontri e intraprendenza di circondarvi di bellezza e benessere pesci un buon assetto planetario vi regala gli stimoli giusti per dilatare i vostri orizzonti mentali o materiali è il momento di osare con i vostri progetti oggi siete particolarmente effervescenti e positivi lasciate in disparte i timori e fate spazio alle novità buone stelle e e e e e